Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Tremendo frontale sulla panoramica dell'ardizio, due persone finiscono all'ospedale e sottomonte invece un'auto si capovolge dopo aver urtato un'altra vettura Ascoltati nella sede dell'Ordine dei Medici, appesero i parenti del bambino di 7 anni morto per un'otite curata solo con l'omeopatia Addio allo stilista Giacomo Guidi, anima dello storico Marche Urbinate della Moda si è tolto la vita ieri sera nella sua abitazione Rifiutati dalla madre e allattati artificialmente dall'uomo vi raccontiamo la storia lieto fine di due cuccioli di capriolo A Pesero da domani prende il via la mostra internazionale del nuovo cinema Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto a tutti voi Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Sul canale 17 di Fano TV c'è Occhio alla Notizia Quella di oggi, sulle strade della provincia pesarese è stata una giornata caratterizzata dagli incidenti Lungo la strada dell'Ardizio un tremendo frontale tra due auto ha mandato all'ospedale due persone una signora di 50 anni e un uomo di 30 Incidente oggi pomeriggio intorno alle 13.50 lungo la strada panoramica del Colle Ardizio che collega Pesero a Fano Nei pressi dell'ex ristorante Dalceo due auto un Alfa Romeo con alla guida un ragazzo trentenne e una Lancia Ypsilon con al volante una signora cinquantenne si sono scontrate frontalmente forse a causa di un sorpasso azzardato Entrambi i conducenti delle auto sono rimasti feriti la situazione è peggiore però per la cinquantenne che è rimasta incastrata nel veicolo accusando forti dolori alle gambe e per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che dopo averla stabilizzata l'hanno estratta dall'autovettura ed è stata subito trasportata al vicino ospedale dai sanitari del 118 Le sue condizioni sono in fase di accertamento il ragazzo invece ha riportato ferite più lievi sul posto anche la polizia municipale di Pesero per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente Questo accadeva poco prima delle 14 sulla panoramica sotto il monte invece qualche ora più tardi un altro incidente sempre tra Fano e Pesero lo vedete in questa fotografia e tra poco grazie ai nostri reporter di strada che come sempre ci inviano foto e video attraverso Whatsapp ecco come dicevo attraverso i video poco fa qualche ora più tardi rispetto a quello che è successo sulla panoramica c'è stato un altro incidente due auto si sono scontrate una di queste come si può vedere dal video si è capovolta finendo a lato della carreggiata come se fosse parcheggiata ma sotto sopra dalle prime informazioni raccolte in strada non dovrebbero esserci persone ferite in modo serio anche se sul posto sono arrivati prima un'ambulanza del 118 e poi un mezzo dei vigili del fuoco oggi nella sede dell'ordine dei medici a Pesero sono stati ascoltati i parenti di Francesco il bambino di 7 anni morto per un'otite curata solo con l'omeopatia è il giorno dei parenti del piccolo Francesco il bimbo di Cagli morto per un'otite curata solo con rimedi omeopatici dal dottor Massimiliano Mecozzi che assieme ai genitori del bambino risulta indagato con l'accusa di omicidio colposo per raccontare la versione dei fatti all'ordine dei medici ed odontoiatri della provincia di Pesero Urbino il presidente dell'ordine, il dottor Paolo Maria Battistini di Fano dopo aver convocato il dottor Mecozzi senza che questi alla presenza del suo avvocato proferisse alcuna risposta alle domande dirette che gli venivano rivolte ma affidato ad una memoria scritta la sua versione dei fatti ed aver sentito il medico del 118 che è intervenuto sul bambino in quelle drammatiche ore ed aver ascoltato la sua versione dei fatti ora si chiude il cerchio con l'audizione dei parenti come recita il protocollo la convocazione era per le 12.30 di questa mattina e puntuali come orologi svizzeri sotto la galleria Roma a Pesero dove a sede l'ordine compaiono alle 12.25 la zia di Francesco ed il nonno Maurizio Olivieri accompagnati dal loro legale l'avvocato Federica Mancinelli ci hanno concesso questa opportunità che noi ovviamente sfrutteremo anche mossi dalla necessità che nessuno si trovi più in queste condizioni non siamo mossi da altro di poter evitare casi come questo e loro possono naturalmente ascoltandoci valutando tutto prendere una decisione questo è sempre stato il vostro primo pensiero il primo pensiero è il più importante più di tutto il resto è l'articolo 15 del codice deontologico della medicina al centro della valutazione della commissione medica provinciale sul caso Mecozzi e la sua possibile violazione da parte dell'omeopata ora si dovrà attendere mercoledì della prossima settimana giorno previsto per la convocazione della commissione dell'ordine per conoscere le conclusioni ed i provvedimenti che si intenderanno prendere nei confronti del Mecozzi un colpo di pistola alla tempia destra senza apparente motivo è morto così Giacomo Guidi 47 anni sposato, urbinate figlio del fondatore del marchio di pelletteria Piero Guidi creatore delle borse con il simbolo degli angeli abbracciati proprio ieri sera ieri era uscita la notizia della richiesta dell'azienda di concordato in continuità per un bilancio che si era ridotto in un anno di un terzo per la crisi per i falsi e le contraffazioni dei prodotti ma Giacomo non sembrava preoccupato più del dovuto aveva una fitta agenda di incontri in tutto il mondo invece improvvisamente ieri sera ha preso la pistola di famiglia e si è sparato in casa in quel momento non c'era nessuno inutili per lui i soccorsi del 118 e oggi messaggi di cordoglio per la morte dello stilista sono arrivati dall'Università di Urbino dal sindaco della città Gambini e dal presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi rinviato di una settimana in segno di rispetto e di lutto il palio dei trampoli a Schieti a Fano per i rappresentanti del gruppo consigliare progetto Fano la città sta perdendo lentamente la sua vocazione turistica Allora, tre anni di lavoro, di consiglio, tante emozioni avete lavorato solo in questo periodo? Tre anni in cui c'è stato comunque un susseguirsi di consiglieri comunali a Fano però allo stesso tempo il nostro gruppo quello che ha cercato di fare è sempre un'opposizione ma costruttiva quindi non solo polemiche ma cercare anche di proporre qualcosa anche perché sì, sono state fatte diverse cose sono stati conclusi diversi lavori a Fano ma quello che vediamo adesso è una maggioranza comunque in stallo una città ferma che non è stata neanche in grado di offrire un programma degli eventi in grado di attirare turisti siamo arrivati alla metà di giugno e ancora di turismo non possiamo parlare E quali sono le criticità che voi rilevate maggiori in questo periodo? Sicuramente quello di aver presentato un calendario degli eventi il 12 di giugno e fino a poche settimane fa ancora vedevamo esposti in giro nella città un calendario degli eventi dello scorso anno ad oggi quello che vediamo non sono né manifestazioni di rilievo che possono richiamare turismo ma ci sono degli eventi comunque organizzati che possono richiamare l'attenzione dei cittadini della vallata per lo più e c'è stata sicuramente una programmazione nulla, pari a zero una promozione in giro che di Fano non se ne sente proprio parlare cioè siamo schiacciati da quelle città che sono a nord di Fano e quelle che sono a sud quindi Fano turisticamente la vediamo morta Qual è la vostra ricetta? Cosa proporreste? La nostra ricetta sicuramente è fare promozione ma prima quindi già nei mesi invernali iniziare a parlare di quelli che sono gli eventi e le manifestazioni di richiamo che in questo momento non ci sono per la stagione estiva in modo tale per permettere anche a quelle che sono le attività private di organizzarsi, di poter lavorare e quindi di avere comunque sia al loro vantaggio quella che è un aiuto concreto da parte anche dell'amministrazione che in questo momento invece non c'è Una gita in barca per anziani e per disabili è l'iniziativa sociale che ha messo in campo il comune di Fano con la collaborazione della società Caicco SRL Si rivolge ad anziani e disabili l'iniziativa nata da una convenzione tra l'assessorato ai servizi sociali e Caicco SRL chiamata Mare per tutti con l'intenzione di permettere a chi solitamente è impossibilitato di vivere il mare attraverso uscite con il motoveliero Regine Elisabetta rivolte agli ospiti di strutture del comune di Fano o dell'ambito territoriale o persone che stanno svolgendo dei percorsi riabilitativi ovviamente seguiti e accompagnati da personale qualificato Prevede appunto in questa convenzione con l'assessorato alle politiche sociali un utilizzo gratuito da parte di tutte le associazioni che hanno in qualche modo difficoltà ad uscire con altro tipo di imbarcazioni sia per ragioni economiche che per ragioni di tipo fisico o psicologico per cui ne potranno beneficiare le associazioni sia dei disabili, di anziani ma persone anche che hanno situazioni di fragilità o di grande difficoltà ad utilizzare altri mezzi Eliminate le barriere architettoniche nell'imbarcazione i partecipanti fino ad un massimo di 40 turno avranno l'opportunità di fare esperienze pratiche come nodi o accompagnare lo skipper al timone tutti lunedì spaziando nella nostra costa dall'Ardizio fino a Torrette Tante persone che anche se essendo di Fano non sono mai state in mare addirittura non hanno mai visto la terra, cioè diciamo Fano vista dal mare ed è una cosa secondo me molto molto emozionante per loro, sì tantissimo Il servizio è reso possibile grazie anche alla collaborazione della Capitaneria di Porto ed è gratuito anche per gli accompagnatori e si protrarrà fino ad ottobre o novembre in base alle condizioni meteorologiche e per prenotarsi basta contattare i servizi sociali del Comune grazie al quale ad un anno dall'inizio del progetto è stato possibile realizzarlo concretamente Nel mondo animale non sempre le cose vanno come madre natura comanda e può capitare che due cuccioli di caprioli per sopravvivere debbano essere lattati artificialmente dall'uomo perché rifiutati dalla madre La natura e le sue leggi sono percorsi a noi per lo più sconosciuti e misteriosi ed a volte l'uomo nella sua inconsapevolezza e superficialità commette errori fatali per alcuni animali Se durante una passeggiata in un bosco vi doveste imbattere in cuccioli di capriolo non chiamatelo Bambi perché Bambi non è una specie animale ma solo un personaggio della Walt Disney non è solo ed abbandonato non toccatelo e non prendetelo in braccio lo condannereste a morte la madre che lo sta lattando non lo riconoscerebbe più e morirebbe di fame come poteva succedere a due splendidi cuccioli poi fortunatamente presi in carico da personale autorizzato e da lattati artificialmente Questi sono caprioli persi per l'ambiente che faranno una vita sempre dipendente dall'uomo e non va bene Il capriolo ha una strategia riproduttiva per cui la madre sembra abbandonare i piccoli in realtà i piccoli stanno nascosti nell'erba e hanno un colore mimetico che assolutamente li rende difficilissimi da vedere non hanno odore per diverso tempo dopo nati quindi quel capriolo che sembra abbandonato in realtà è l'animale più difeso del mondo perché nessuno lo vede e nessuno lo sente nel suo odore Non hanno ancora un nome i due cuccioli scampati a morte certa ma presto faranno parte del nutrito numero di esemplari che dimorano nello splendido parco naturale del Monte San Bartolo a Pesaro Periodicamente organizziamo queste uscite che però si svolgono all'alba e al tramonto quindi vuol dire che se uno vuol vedere il capriolo nel suo abito naturale avere quasi la certezza di vederlo deve avere anche la voglia di alzarsi almeno alle 3 della mattina per poi trovarsi nei punti prestabiliti che noi conosciamo dove hanno dei passaggi diciamo soliti e quindi è possibile vederlo quindi invito anche lì tutti andare nel sito del parco San Bartolo e di iscriversi alle newsletter per rimanere informati In questo polmone verde a ridosso del mare un'associazione di volontari, l'URCA si occupa della didattica e conoscenza dell'universo faunistico della macchia mediterranea Siamo soddisfatti perché il capriolo siamo riusciti a farlo conoscere sappiamo presso a poco insomma il numero che abbiamo perlomeno abbiamo stimato con sufficiente sicurezza il numero siamo riusciti a comunicare con le persone interessate al parco abbiamo valorizzato la componente faunistica del parco quindi il progetto va avanti con soddisfazione Le foto che avete visto nel servizio sono di Andrea Dalpian A Pesaro domani inizia e prende il via la mostra internazionale del Nuovo del Cinema ad aprire il Festival un film cult, gli Intoccabili Si pratica la violenza al Chicago, certo ma non da me e neppure dagli uomini che lavorano per me e sapete perché? Perché non è mai un buon affare Sarà un cult che compie 30 anni ad aprire la mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro Il capolavoro di Brian De Palma, gli Intoccabili verrà proiettato sul grande schermo in Piazza del Popolo sabato sera e inaugurerà il festival fondato 53 anni fa da Lino Miciche e Bruno Torri Domenica sarà invece la volta di un altro capolavoro in versione restaurata Roma Città Aperta, firmato da Roberto Rossellini al quale la mostra quest'anno dedica un omaggio con un indimenticabile Anna Magnani che per questa interpretazione è rimasta nella storia del cinema Il festival ha uno sguardo sul passato che è questo con un omaggio a Roberto Rossellini ai 40 anni della morte ma anche nei 50 anni in cui lui veniva proprio a Pesaro nei primi anni del festival e l'ha aiutato a essere conosciuto in tutto il mondo grazie a lui, a Pierpaolo Pasolini, a Umberto Eco ed altri e c'è uno sguardo sul passato che è Rossellini ma il festival naturalmente si chiama del Nuovo Cinema è rivolto completamente al Nuovo Cinema, a quello contemporaneo con delle sezioni tradizionali molto importanti come quella del concorso Pesaro Nuovo Cinema 8 titoli da tutto il mondo e una sezione che abbiamo inaugurato l'anno scorso più attenta al cinema italiano, più attenta al cinema dei nuovi cineasti meno visto, anzi quasi assolutamente invisibile negli altri circuiti che è questa sezione si chiama Satellite, visioni per il cinema futuro durante la settimana le proiezioni delle pellicole in concorso e il finale sabato 24 con Tommaso film scritto, diretto e interpretato da Kim Rossi Stewart e presentato fuori concorso alla 73esima mostra di Venezia attese in città le attrici Jasmine Trinca, Valentina Carnelutti e Blu Yoshimi che parleranno di come il mestiere dell'attore si sia evoluto nel cinema contemporaneo e per Renzo Rossellini, regista e produttore nonché figlio d'arte che sarà il protagonista di una tavola rotonda venerdì 23 era l'ultimo servizio in programma grazie per aver seguito Occhio alla Notizia dopo di noi uno speciale sul Bio Europa a voi tutti l'augurio di una buona serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti